Avere valori ridotti di colesterolo è un indice di salute cardiovascolare, questo vale per tutti ma soprattutto per le persone ad alto e altissimo rischio cardiovascolare come chi ha avuto un infarto. Oggi a questa regola se ne è giunto un'altra e noi ne parliamo col professor Giovanni Esposito direttore della cardiologia dell'emodinamica e dell'UTIC all'azienda ospedaliera Federico II di Napoli. L'abbiamo incontrato qui a Milano al 43esimo congresso del GISE, la società italiana di cardiologia interventistica, una società scientifica preseduta proprio dal professore. Professore Esposito l'assioma dell'hauer is better, cioè meno colesterolo c'è meglio è, oggi è in parte diciamo così completato da un altro tipo di approccio, di cosa si tratta? Sì allora innanzitutto ecco questo è un contesto di cardiologia interventistica, quindi parliamo invece di terapia medica, perché? Perché oggi ormai i dati si accumulano, sempre più dati che indicano che non è solo importante ecco sottoporre i nostri pazienti alla rivascolarizzazione coronarica o periferica, ma è importante anche ottimizzare la terapia medica, ci sono stati progressi importanti nel campo della terapia farmacologica e the lower is better, cioè abbassare il colesterolo quanto più su valori, il colesterolo cattivo mi riferisco quindi alle LDL, su valori quanto più bassi possibile, ormai negli anni, in decenni è stato consolidato, quindi gli studi che si sono susseguiti negli ultimi vent'anni hanno dimostrato che quanto più bassi sono valori di LDL, tanto il paziente riduce quelli che sono gli eventi cardiovascolari maggiori, cioè l'ictus e l'infarto, quindi ecco quello a cui abbiamo assistito nel tempo è che i valori di riferimento si sono sempre più abbassati, quindi più sono nate evidenze più i valori sono stati ridotti e oggi ovviamente sappiamo che quanto più bassi possibile, erano 70 i valori di LDL di riferimento nel paziente ad alto rischio cardiovascolare, le ultime linee guida invece le hanno abbassate ancora di più, quindi siamo giunti a dei valori anche di 45 nel LDL nei pazienti con eventi ricorrenti, cioè se io ho avuto un ictus e poi sono stato rispedalizzato dopo un anno per un altro evento ovviamente questo significa che io sono ad altissimo rischio, in questo caso l'LDL deve scendere non più soltanto a 70 ma anche su valori molto bassi quindi 45 milligrammi. Questa professore è una conferma e invece la novità dal punto di vista dell'approccio terapeutico qual è? Ecco la novità importante è che oggi sempre più evidenze si accumulano anche su un altro concetto che non è soltanto importante andare a target e oggi noi abbiamo delle armi formidabili per portare il colesterolo su valori bassissimi ma un punto importante che si sta evidenziando è che bisogna farlo quanto più precocemente possibile, cioè se io ho un evento cardiovascolare acuto quindi una sindrome coronica acuta, cioè un infarto non è solo importante poi portare l'LDL nei prossimi giorni o nelle settimane successive su quelli che sono i valori target che è già un punto importante perché se noi analizziamo i dati della Real World vediamo che ci sono moltissimi pazienti che non raggiungeranno mai questi target e quindi farmaci anche innovativi per esempio come inibitore PCSK9 aumentano non soltanto sono capaci di ridurre i livelli ma sono in grado anche di aumentare la compliance, cioè il paziente lo assume molto più facilmente e quindi aiuta a mantenere il target. Ma dicevo il punto importante è farlo abbassarlo quanto più precocemente possibile quindi proprio nelle fasi e nelle ore immediate dopo l'evento acuto perché questo è stato dimostrato che rappresenta un punto importante perché riduce poi gli eventi cardiovascolari. Ovviamente le evidenze si stanno accumulando sempre di più un po' come è successo come the lower is better quindi dobbiamo passare allo stesso concetto del lower is better da faster is better cioè quanto più precocemente possibile meglio è. Ecco lei qui al congresso ha parlato di uno studio che si chiama Act Early che ha utilizzato uno dei due anti PCSK9 che per la precisione è l'alirocumab. Che risultati ha dato appunto utilizzato molto precocemente nel post infarto? Sì questo è uno diciamo dei studi più recenti pubblicati su Euro Intervention poche settimane fa che è andato proprio in questa direzione cioè ha dimostrato che innanzitutto gli effetti del trattamento con alirocumab quindi inibitore PCSK9 abbassano i livelli di colesterolo su valori ovviamente che vanno a target in modo immediato ma soprattutto che questi effetti sono molto veloci sono precoci e quindi si manifestano già a poche ore dal trattamento quindi questa è ancora un'evidenza in più sul fatto che dobbiamo cercare di trattare i pazienti nel più breve tempo possibile. Un aiuto per così dire ce l'ha dato l'AIFA l'Agenzia Italiana del Farmaco che appunto nei mesi di giugno vi ha consentito di utilizzare questi farmaci in maniera un po' più ampia ecco ci spiega cosa è cambiato? Sì questo è un punto importante perché ovviamente questa è anche la dimostrazione che quando le società scientifiche lavorano insieme in questo caso è stata la SIC e l'AMCO che hanno diciamo prodotto un documento presentato all'AIFA in pratica è stato recepito dall'AIFA il fatto che noi questi farmaci prima dovevamo ovviamente avere valori di LDL di 100 mg per decilitro adesso 70 mg per decilitro quindi questo ci permette di prescrivere ai pazienti l'opportunità terapeutica anche in tempi e soprattutto avere target importanti quindi noi dobbiamo fare in modo che i pazienti raggiungano quei target nello specifico 70 e ovviamente questo al di là diciamo dell'utilizzo del PCSK9 ma è trasversale cioè noi dobbiamo avere l'obiettivo è di portare il paziente a target adesso lo facciamo con la statina con le zettimibie con il PCSK9 ma quello che dobbiamo avere come obiettivo è quello che tutti i pazienti che hanno avuto un evento cardiovascolare devono aggiungere i target di colesterolo LDL adeguati perché solo questo riduce gli eventi cardiovascolari maggiori poi nel loro follow up. Esatto perché chi ha avuto un infarto poi ha discrete chance di averne poi un secondo se non instaura tutta una serie di accorgimenti. Sì la prevenzione questa è prevenzione secondaria purtroppo diciamo gli eventi cardiovascolari in chi ha avuto già un evento oppure per esempio il paziente con diabete è considerato un paziente già in prevenzione secondaria come se già avessi avuto un evento quindi i pazienti ad altissimo rischio devono avere dei target terapeutici diciamo molto più bassi rispetto a quello che diciamo veniva considerato in passato. In realtà ancora c'è qualche refuso se voi se noi vediamo semplicemente per esempio sugli esami diagnostici che un paziente ottiene quando va in un laboratorio vediamo che c'è scritto LDL a volte 100 100 120 130 in realtà questo è un bias importante perché spesso il paziente viene confuso perché vede il valore dice ok va bene io allora devo avere 110 di LDL io ho 80 90 va bene in realtà lui dovrebbe avere 70 50 quindi anche voglio dire la dobbiamo fare cultura anche in questo senso e quindi creare anche da un punto di vista a livello dei pazienti la consapevolezza che è importante raggiungere i valori di LDL target ma soprattutto che i livelli di LDL sono diversi da un paziente all'altro e soprattutto da un profilo di rischio di rischio all'altro. E vengono raggiunti il più presto possibile. Assolutamente sì.